il mio personale kit di pronto soccorso ho utilizzato come base una borsa della Life System quindi quella venduta vuota che ho completamente personalizzato nella tasca esterna ho inserito alcune cose la prima è la coperta termica o metallina la seconda è il Resusseid che sostanzialmente è un kit per la respirazione bocca a bocca ma in sicurezza quindi dotato di una valvolina antiriflusso e con la possibilità appunto di essere appoggiata sulla bocca della persona che riceve la respirazione ma il flusso d'aria passa in una sola condizione e quindi non c'è rischio di venire a contatto né con l'aria né con eventuali fluidi del paziente adesso rimetto via tutto vediamo in dettaglio la metallina è una metallina ordinaria quindi con i due lati quello dorato e quello alluminato naturalmente fare attenzione che le dimensioni sono grosse e quindi una volta aperta e tolta dalla sua conformazione originaria sarà difficile farla rientrare ora andiamo a vedere l'interno l'interno è composto da più tasche e componenti prima che andiamo a vedere sono le cose sfuse quindi c'è un termometro quelli normali non elettronici che trovo più confortevoli per questi kit e poi un set di forbici quelle adatte per il taglio bende ma anche per il taglio del vestiario in sicurezza poi nelle taschette abbiamo forbicine per il taglio cerotti bende eccetera delle pinzette molto adatte per l'estrazione delle spine altra taschetta qui teniamo all'interno allora un po' di cose ci sono naturalmente un saccatino di nylon per tenere eventuali residui di medicazione e poterli poi buttare via in sicurezza e poi delle confezioni con naturalmente i guanti quindi per poter operare in completa sicurezza rimettiamo via tutto le tasche sono abbastanza capienti quindi c'è possibilità di inserire ancora più materiale volendo poi andiamo a vedere i tre scomparti grossi interni allora nella sezione centrale fermata da due elastici c'è un rotolo di cerotto e delle bande da utilizzarsi come lacciomostatici nella taschina qui sotto io ci tengo i medicinali quindi in questo caso c'è dell'operamide poi dell'aspirina un tubetto comodissima del paracetamolo del polase quindi magnesio e potassio e poi dell'ibruporafene poi naturalmente ognuno ci mette dentro quello che reputa più comodo ma questi sono i farmaci che ritengo più utili avere a disposizione nella scompartia centrale allora abbiamo un po' di cose quindi abbiamo visto il botticino di acqua ossigenata le salviette disinfettanti per le mani quindi per poter poi operare puliti sulle ferite poi del cerotto spray comodo per le operazioni su ferite in posti scomodi come tra le dita o sulle pieghe molto utile un botticino di disinfettante diverso dall'acqua ossigenata che abbiamo visto prima un tubetto di soffargente utilissimo per le ferite da ustione poi un succhiaveleno e sostanzialmente basta andando avanti nell'ultimo scomparto ci tengo allora garze e bende un po' di forme e dimensioni diverse nei loro contenitori sterili poi cerotti assortiti di tutte le forme e dimensioni io ho un po' di tutto quindi da da quelli piccoli a quelli grandi passando per quello che reputo utilissimo cioè il cerottonastro che si può tagliare delle dimensioni più adatte alla ferita che abbiamo e appunto forme e dimensioni varie da quelli a far fare la ferma ferita al resto quindi senza senza far mancare nulla tanto questa è roba che costa poco e non deparisce quindi sta all'interno tranquilla come vedete ci sta veramente tanto materiale in queste taschette ora rimettendole via andiamo a vedere poi quello che è nell'ultimo comparto che è sostanzialmente un'altra taschetta interna dietro a queste qui a vista dove appunto io vado a tenere tutte quelle che sono le le garze di dimensioni un po' più grosse insomma bene e questo è quanto spero che possa esservi stato utile come vedete pur essendo molto compatto come kit in generale permette di contenere al suo interno veramente tanto tanto materiale le dimensioni sono molto compatte ed è un compagno indispensabile per le uscite e le escursioni grazie